Ciao e bentornati al Zucchiale! Bentornati cari amici un quarto ed ultimo libro dedicato ai superfoodies abbiamo fatto colora con i superfoodies no questo, poi questo e poi questo colora con i superfoodies, gioca con i superfoodies libro game superfoodies in azione e per concludere libro game superm in missione quindi vediamo di che cosa si tratta lo vediamo insieme a noi come funziona questo libro? il protagonista sei tu, bla 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 prima parte trasformati in superm scrivi qua il tuo motto per me il mio motto è aspetta Mufix è il più bello? no qui abbiamo i compagni di squadra devi conoscere i personaggi che ci saranno all'interno della storia e qui inizia l'avventura a un certo punto dell'avventura quindi l'avventura inizia qua essendo un libro gioco leggiamo solo la prima parte poi sfoglieremo velocemente il libro in un batter d'occhio hai riunito la squadra General Chamba, Ranix, Ladyfra Speedy Pee Speedy Pee Big Nanas Acid Lee anche Space Carrot vi raggiungerà appena possibile quando si tratta di Radix c'è bisogno di aiuto di tutti i più impazienti come Big Nanas e Ladyfra propongono di partire subito in missione e pattugliare le vie della città per stanare i nemici ma c'è anche chi preferisce aspettare General Chamb suggerisce di studiare un piano d'attacco mentre Acid Lee il maestro delle arti marziali consiglia di scaldare un po' i muscoli in palestra priva di scontrarsi con i rivali l'ultima parola però aspetta a te Super M che sei tu l'eroe e capo aspetta della squadra solo tu puoi prendere la decisione giusta dovete scegliere tra decidi di partire subito non c'è tempo da perdere oppure meglio allenarsi e studiare un piano d'azione cosa vuoi fare? 16 studiare un piano d'azione e allenarsi allora questo era 14 15 le saltiamo 16 per dare il meglio in una missione bisogna essere preparati e in pratica il libro si evolve tutto così ogni volta la decisione cambia la storia quindi adesso sfogliamo tipo il libro di Sio tipo il libro di Sio che però era molto più il problema dei tre corgi che l'abbiamo fatto vedere giusto? sì mi pare di sì 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 abbiamo fatto vedere qualche storia potremmo fare un'altra aspetta 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 allora per sferere il messaggio segui questo indizio a simbolo uguale corrispondente ok allora ma qual è la cosa? ma io direi che qui è tipo della onella quindi queste secondo me sono due L allora aspetta dov'è il cuore? c'è un cuore? c'è un cuore? allora la P perché? il cuore ah no 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 ah sì no il cuore allungato questo questo cuore infatti non può essere una P ah ecco quindi la la B e il fiore quindi la B e il fiore dov'è? non ce ne sono più di fiori oh va va beh passiamo la prima va beh qui N c'è un'altra N e quindi quella e mezza è una O sicuramente non può essere Nin ma sarà Non quindi cerchiamo un'altra N O e un'altra N un'altra N queste sono due L Nella non può essere NECA o DENDA Nella e quindi abbiamo O qui no non lì qui le due mezzelune e poi abbiamo una L qui usa un maialino per cancellare usa un maialino per cancellare qui abbiamo una L sicuramente L e poi bosco sarà una C credo quindi la X così c'è anche qui no qui qui la X e la C come abbiamo visto in bosco comunque andando avanti si decifra tutta la scritta e andando avanti si arriva fino ad un finale che ovviamente non svegliamo perché è bello arrivarci leggendo tutta la storia magari lo potremo fare insieme però ci vuole un po' di tempo e oggi non ce l'abbiamo maialino che ho usato per cancellare che ha perso una zampa perché l'hai cancellato con la zampa e l'hai consumato una zampa quindi i superfoodies ci fanno sempre compagnia oramai da anni possiamo dire che abbiamo quasi cominciato con i superfoodies in realtà abbiamo cominciato con delle cose di Harry Potter ma in cui la sala non parlava molto noi io vi ringrazio come sempre per averci seguito fino a qui con questa iniziativa S lunga e ci saranno sicuramente altre iniziative iscrivete al canale mettete un like condividete schiacciate la campanella per essere aggiornati su tutti i video ciao